Come investire è un aspetto molto importante per il risparmiatore, scegliere il prodotto giusto deve essere la prima attenzione da parte di chi investe. Il prodotto deve essere diversificato, deve essere accessibile e soprattutto molto trasparente. Noi per esempio da questo punto di vista abbiamo creato due fondi comuni di investimento con due profili di rischio rendimento diverso. Abbiamo fatto Anima Crescita Italia con un percentuale di azionario non superiore al 40%, quindi tendenzialmente un bilanciato obbligazionario e Anima Iniziativa Italia che invece è un fondo azionario che investe in titoli a piccola e media capitalizzazione italiani. Ogni investitore può scegliere tra queste due alternative o le può mischiare in modo tale da ottenere il perfetto bilanciamento tra i due profili di rischio in modo da incontrare le proprie aspettative in termini di profili di rischio di un risultato temporale.